Buongiorno Crutone, alle mie spalle vedete quanta quantità di rifiuti ci sono, sicuramente rifiuti che, soprattutto questi per terra, che non sono stati raccolti ultimamente, anche se da qui ogni giorno passa uno dei mezzi della società che ha la raccolta dei rifiuti. Come vedete bene c'è di tutto e di più, tra l'altro molti cibi avariati e il verde che viene tagliato e messo chiaramente all'esterno e non in un sacchetto o lasciato da qualche parte. Fatto sta, cari amici telespettatori, che questo buongiorno è un buongiorno che ci mette ancora una volta di fronte al nostro disinteresse. Forse non è un servizio super efficiente, ma non possiamo certo dire che noi abbiamo rispetto di quest'area. Qui se una persona di sera, visto che non credo che ci sia la luce, deve passare, non passa sul marciapiede ma deve passare sull'asfalto. E se voi vi rendete conto della velocità con cui le macchine passano da questa parte, vi rendete conto che c'è anche il rischio di essere messi sotto un'automobile di passaggio. Insomma, si può pensare di vivere in queste condizioni? Evitiamo di buttare fuori per strada, fuori anche dall'orario che è a nostra disposizione, i sacchetti dell'immondizia. Dobbiamo aggiungere che come al solito troviamo materassi per strada e quindi è chiaro che ci chiediamo da quanto tempo sono qui. Non si tiene conto nemmeno che questa è una zona dove ci sono degli esercizi commerciali e dunque non è una bella vista quello che noi abbiamo di fronte. Ce n'è per tutti signori, ce n'è per tutti ma ce n'è soprattutto per noi che veramente dobbiamo dire con grande chiarezza Crotone svegliati e cerca di amare più la tua città. Buongiorno Crotone.